Allora Ivan Pezzolla, praticamente stiamo parlando dell'evento Biker Experience, Levante Biker Experience presso l'autodromo di Binetto, Levante Circuit o come era conosciuto storicamente Autodromo di Levante. Il primo settembre che è domenica ci sarà il villaggio nel quale ci saranno tutte queste attività relative alla guida sicura, all'intrattenimento, tutto ciò che ruota intorno ai motociclisti, giusto? Esattamente, ci saranno diverse aziende che hanno mostrato interesse per questo evento, per cui esporranno i loro prodotti, insomma veniteci a trovare, troverete aziende del settore, troverete dimostrazioni di guida sicura, meeting sulla sicurezza stradale, attività in pista, corsi di guida sportiva, simulatore e veramente tanto altro, per cui per una giornata davvero ricca di intrattenimento. Ci saranno anche attività per i ragazzi? Ma anche sì, assolutamente sì, soprattutto per i nuovi bikers, per chi come noi ci accomuna questa passione. Scusami, ma io da classico barese ti devo fare la domanda, tu lo sai che arriva poi l'ora della braciola che è intorno a mezzogiorno, avete previsto anche un catering eccetera? Assolutamente sì, ho visto un catering, quindi ci sarà un buffet, per cui ci sarà modo di passare assieme due ore piacevoli spero, per poi iniziare con l'iscrizione al pomeriggio delle varie prove di abilità. Ginkana, lentezza? Ginkana, prova di lentezza, simulatore di guida e con l'intrattenimento anche musicale del nostro DJ set Beppe Dex. Quindi non ci sono scuse per dire mi sto annoiando, perché ci saranno tante attività in cui non ci si può annoiare. Ma spero proprio di no, l'obiettivo è appunto coinvolgervi per tutta la giornata. Mi puoi confermare l'appuntamento allora il primo settembre? Il primo settembre, ore 9, start attività in pista, ore 10 attività nel paddock, sino alla sera alle 19. Ivan, in bocca al lupo, perché abbiamo visto un cambio proprio generazionale e l'impegno che ci stai mettendo è molto e penso che merita questo impegno un riscontro. Quindi appuntamento a tutti i biker o chi è un genitore che sta prevedendo di comprare un motore al proprio figlio, di venire ad ascoltare dai tecnici quello che sono i discorsi sulla guida sicura. Assolutamente, grazie a voi che ci seguite con tanta passione e vi aspettiamo numerosi. Mi autorizzo ovviamente a pubblicare tutto questo su Rose of Puglia e sul tuo sito del Levante Circuit. Assolutamente sì, confermo. Grazie. Grazie.